Come era trapelato già ieri nel pomeriggio, l'ultimo saluto a Sammy Basso, biologo affetto da progeria scomparso improvvisamente sabato sera, sarà nel campo sportivo della sua tezze. Uno spazio enorme per abbracciare attraverso la presenza e l'affetto di tutti quelli che l'hanno conosciuto una persona straordinaria, che nello spazio esiguo della sua vita è stata capace di dare tanto al mondo intero. Venerdì 11 alle ore 15, una funzione che Antena 3 seguirà interamente in diretta per consentire davvero a tutti di esserci e salutare questo grande piccolo eroe dei nostri tempi. A celebrare l'esequia sarà il Vescovo della Diocesi di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto, con a fianco Don Piero Savio, parroco di tezze. Ma non è esclusa anche la presenza di altri parroci del comprensorio bassanese, amici famosi ed esponenti politici. Diverse le testimonianze che si alterneranno prima dell'inizio della funzione. L'amministrazione comunale di tezze ha fatto sapere che in occasione dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino. Si potrà accedere al campo sportivo già a partire dalle 13.30, un accesso libero a tutti finché lo spazio lo consentirà. Ora, come comunità cristiana, desideriamo condividere la nostra gratitudine per la straordinaria testimonianza di semi e l'eredità che ci lascia, così ha detto Monsignor Brugnotto. Per Semmi, che ha sempre condiviso la sua fede pubblicamente, la sera prima alle ore 20 ci sarà una veglia di preghiera nella chiesa di Tezze sul Brenta.